Non bastava il Covid, ora ci si mette anche il vaiolo delle scimmie, sintomi, mortalità, tempi di guarigione. Cosa sappiamo finora? La nostra domanda l'abbiamo girata al professor Paolo Fazzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Verologia dell'ospedale di Pescara. L'ennesima patologia da salto di specie. Il salto di specie non si è realizzato ultimamente. Il salto di specie pare che si sia realizzato negli anni 30. Il passaggio quindi di questa virosi, molto simile al vaiolo umano, chiamato anche il vaiolo delle scimmie, appunto dai primati, delle scimmie antropomorfe all'essere umano. Recentemente si sono avuti dei casi, alcune decine di casi nel mondo, anche se sembra che il reservoir di questa infezione non siano solamente le scimmie antropomorfe, ma anche alcune specie di roditori. In particolare sembra che sia stato importato un roditore dal Centrafrica, un roditore molto simile al ratto norvegese, anche se in realtà non fa parte della stessa famiglia, che albergava questo virus e che ha causato la malattia, la coppia che l'aveva adottato in Inghilterra. Poi ci sono stati dei casi anche in giro per l'Europa, per il mondo, ormai sono decine. Cosa dire? È una patologia meno infettante comunque del vaiolo umano, anche meno impattante a livello di gravità della patologia. Ed è abbastanza simile le manifestazioni al vaiolo umano, quindi abbiamo queste vescicole più o meno grosse che colpiscono inizialmente il viso e le mani per poi avere un'evoluzione centripeta, quindi colpisce anche il centro del corpo, della pelle. Sembra che ci siano due varianti, una dell'Africa occidentale che sembra possa dare un per cento di mortalità e l'altra dell'Africa centrale invece che possa dare il 10 per cento di mortalità. Il vaiolo umano dava una mortalità a circa il 40 per cento degli infetti. Il contagio purtroppo si realizza anche tra uomo e uomo per contatti diretti, intimi, oppure tramite anche goccioline del flughe, oppure contatto diretto con le vescicole che si rompono. Ma il vaccino che si fece allora per il vaiolo serve ancora e chi non è vaccinato rischia? Chi non è vaccinato sicuramente rischia. Il vaccinato dovrebbe essere coperto, però quanto coperto? Il sottoscritto si è vaccinato di vaiolo all'età di 3-4 anni, una sola volta nella vita, quindi quasi 60 anni fa. Quale potrà essere il ricordo immunologico versus un virus? Sappiamo che noi quando ci si vaccinava, ci si vaccinava con il vaiolo vaccino, quindi praticamente dei bovini. Quindi il nostro vaccino praticato tantissimi anni fa, comunque fino al 1976, per i nati quindi prima di quella data, è un vaccino che un po' dovrebbe crociare e anche con il monkeypox e dare una protezione. Quale però l'entità di questa protezione io non penso sia elevatissima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.